Sembra che la fotografia che ha fatto il Presidente Monti sia inescepibile e vorrei poter condividere lo slancio di ottimismo di Roberto Maroni sull'esito di questa vicenda perché ovviamente il compito di un'opposizione politica come siamo noi oggi non è quello di fare il tifo contro gli interessi del proprio Paese. Però diciamo che questo ottimismo va messo a dura prova perché deve fare i conti con la realtà e la realtà al netto dei numeri e degli scenari economici la realtà politica è quella di un Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini che sostanzialmente all'indomani delle elezioni europee ha tratto la seguente conclusione ho vinto io in casa mia e adesso l'Europa fa quello che dico io. C'è un elemento di verità in questa affermazione perché effettivamente Matteo Salvini ha ottenuto un lusinghiero successo in patria è il partito di maggioranza relativa e questo potrebbe condurre a delle riflessioni che non facciamo in questo momento però con un piccolo particolare che non è un dettaglio che nonostante il successo conseguito nelle elezioni europee in Italia oggi Matteo Salvini è minoranza una minoranza per quanto significativa ma una netta minoranza negli equilibri politici dell'Europa e quindi il fatto di dire ho vinto le elezioni adesso l'Europa si adegua alle mie necessità e volontà e beh insomma evoca un po' la vecchissima storiella dell'ufficiale che telefona al comando dicendo ho fatto 150 prigionieri bravissimo portaceli non mi lasciano venire. La situazione è che non siamo nella condizione noi di dettare queste regole all'Europa e l'Europa ha bisogno ma in questo ovviamente il presidente Monti ci insegna di costruire politiche di alleanza con interlocutori che hanno anche opinioni diverse dalle tue e l'ultimo anno ha visto invece il nostro governo per diretta volontà soprattutto del leader della Lega ma anche dell'altro vice premio Luigi Di Maio con in mezzo la figura un po' anomala dell'arbitro l'avvocato del popolo che metteva delle pezze periodicamente la volontà di sfidare l'Europa dicendo noi procediamo sulla nostra strada e questo ha condotto essenzialmente a che cosa? ad un isolamento pericoloso del nostro paese. Oggi noi siamo l'Italia che è un grande paese con tutte le caratteristiche che rivendichiamo sempre è un paese drammaticamente isolato nello scenario europeo internazionale un isolamento che non ha precedenti. quindi l'essere grazie a tutti grazie a tutti